Progettare la cornice per un'opera d'arte significa dialogare con l'opera e con l'artista che l'ha creata. Colore e forma in una cornice sono essenziali, stabiliscono un rapporto con l'opera e con l'ambiente, ma soprattutto trasmettono una sensazione tattile e visiva allo spettatore. L'esperienza artigianale nel lavoro, abbinata all'utilizzo della tecnologia e a una collaborazione costante e sincera con gli artisti, mi ha permesso di raggiungere ottimi risultati sul piano professionale. Ma soprattutto è stato gratificante dal punto di vista umano e personale. Grazie. 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 Grazie.